Buongiorno da WTV News. Oggi 22 novembre Santa Cecilia. Il 22 novembre di ogni anno ricorre la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole istituita con la legge 107 2015 in memoria del tragico incidente avvenuto nel 2008 a liceo Darwin di Rivoli in cui perse la vita lo studente Vito Scafidi. Tutte le scuole sono invitate in questo giorno a organizzare attività, incontri, occasioni di confronto e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi allo scopo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici e garantire una corretta informazione a tutti gli studenti.